Grazie a tutti. Per avere più spazio in camera abbiamo pensato di fare una modifica ovvero girare il lettino quindi parallelo alla parete per avere ancora più spazio abbiamo comprato altri cubotti colorati da mettere qui in modo che lui quando gattona ha tutto lo spazio. Poi abbiamo preso anche copri prese copri angolini per non farsi male e anche il cancellino da mettere qui così in teoria dovrebbe essere tutto in sicurezza. A questo mi sa che lo togliamo. Grazie. Non posso né scendere né salire. Non posso né scendere né salire. Dai che ce la fai. E adesso come facciamo? Come facciamo? Imprigionato dai baci! Dove scappa il prigionino di baci? Dove tenta di scappare? Oh no! La grande fuga!